Ci ritroviamo a celebrare la Natività del Signore nostro Gesù Cristo e sappiamo tutti quanti che in questo periodo della pandemia tante persone hanno sofferto, tante persone si sono ammalate e tante persone sono tornate alla casa del Padre perché hanno contratto il coronavirus. Non dobbiamo immaginare che tutto continui ad essere sempre con la stessa modalità e soprattutto non possiamo fare in modo che non si possa festeggiare la Natività di Gesù. Ecco allora, questo bambino che nasce è la speranza di tutti i popoli e la speranza non solo per ogni credente ma per ogni uomo che sta in questo mondo. La solennità del Natale ci richiama alla fede, alla fede che noi abbiamo e coltiviamo da sempre. Questa fede noi la dobbiamo far vivere soprattutto allargando il cuore a tutti coloro che sono afflitti. Questa dimensione della Natività del Signore nostro Gesù Cristo ci dà la possibilità di allargare il cuore verso gli altri. È vero che noi crediamo nel Signore ma è pur vero che abbiamo affrontato in questo periodo di pandemia tantissimi problemi, tantissime cose che non si sono potute realizzare però noi siamo fiduciosi nel Signore. Ogni volta che nasce un bambino nasce certamente la gioia, l'esultanza, la bellezza della vita. Vorrei in qualche modo far presente che la presenza di Gesù, bambino, che nasce dalla Vergine Maria è un segno di speranza, è un segno di certezza nella fede. È un segno che ci dà la possibilità di poter ricominciare da capo anche se siamo stanchi per tutte le limitazioni che abbiamo attraversato ma noi vogliamo guardare oltre, vogliamo andare oltre tutto quello che abbiamo vissuto e vogliamo in qualche modo riprendere la nostra vita così come ci viene di poterla vivere e soprattutto una dimensione non la dobbiamo mai dimenticare. Più che rinchiuderci dentro le nostre case o rinchiuderci dentro i nostri problemi dobbiamo essere tutti solerti e pronti per fare in modo che il Natale venga celebrato così come ci troviamo in questa situazione. Ecco, la Natività del Signore porta la gioia, porta l'esultanza, ci dà la possibilità di sperare ancora di nuovo in un mondo migliore, in una dimensione di grazia, in una dimensione di salvezza. Vogliamo in qualche modo ricordarci anche delle persone che in un modo o nell'altro si ritrovano a far ripartire la macchina della nostra vita e della nostra fede. Voglio dare un augurio a tutti quanti, a tutte le persone della nostra città, della nostra diocesi, a tutte le persone che si affacciano nelle varie realtà del mondo così variegato, così grande. Possiamo anche testimoniare che la speranza non delude. La speranza ci fa andare avanti, ci dà, potremmo dire, lo stimolo forte di continuare a vivere e non a sopravvivere, ma a vivere quotidianamente con serenità e con certezza. Se noi ci accostiamo al piccolo fanciullo che è nato dalla Vergine Maria, che poi è il Salvatore del mondo, questo bambino che cresce, che poi diventa uomo, che viene crocifisso, non solo crocifisso, che poi risorge e fa in modo che di portare tutti quanti noi verso la libertà, verso la dimensione della gioia, verso la dimensione dell'entusiasmo, potremmo dire, ecco. Quindi oggi noi contempliamo questo bimbo che è nato tra noi e ci porta alla salvezza. Questo bimbo poi ovviamente crescerà e crescendo farà in modo che possiamo essere redenti dal suo sangue. Tra il Natale e la Pasqua c'è un legame forte, molto bello, molto teologico. E noi vogliamo proprio mettere in risalto questa dimensione. Vorrei augurare a tutti voi Buon Natale, Buon Natale ai sacerdoti, Buon Natale alle congregazioni delle religiose, Buon Natale alla città di Ragusa, Buon Natale a tutti, Buon Natale a qualunque persona. E se ognuno di noi potesse fare qualche cosa, anche un piccolo gesto di carità, di amore, è bene che lo facciamo in modo tale che possiamo riempire di contenuto ciò che noi abbiamo voluto fare. A tutti Buon Natale!